Subito la seconda sfida, attenzione! Reclame libero, venite! Vi state sul podio tutti? Sì, sì, ci stiamo. Allora ragazzi, c'è un po' di tensione, avete sentito Gefeo, è normale che ci sia, è importante che non incita troppo sulle prestazioni, clip di presentazione, com'è? Siamo russi, ci stiamo pensando. Presentazione, Reclame libero. Noi siamo i Reclame, veniamo da Roma, io sono Marco, lui è Gabriele, lui è Edoardo e lui è Riccardo. Sono libero, ho 29 anni e vengo da Genova. Il progetto nasce dall'incontro fra me e i tre ragazzi qui dietro che sono tre fratelli, nasce molti anni fa, eravamo presso a poco 15 anni, ci ritroviamo a suonare all'interno di un tinello che hanno sotto casa, che per molto tempo è stata la nostra rudimentale sala prove. A 14 anni ho avuto la mia prima band e l'ho fondata perché io ero super fan di Bruce Springsteen e ho pensato che se lui aveva una band probabilmente avrei dovuta averla anche io. I nostri genitori sono stati fondamentali perché ci hanno sostenuto sin dal primo momento in cui abbiamo deciso di muovere i primi passi all'interno del mondo musicale. Faccio fatica a riconoscermi in un genere musicale preciso perché ho ascolto veramente tanta musica e risento di tante influenze, dai cantautori al pop al rap. Siamo emozionatissimi di salire su questo palco, particolarmente agitati e anche onorati, non vediamo l'ora di salire e dare il meglio di noi. L'ansia si fa sentire, però sono anche assolutamente determinato a fare del mio meglio in questa sfida e che venga il migliore.